Ci stiamo avvicinando, Joe. Lo sento. Devi trovare e distruggere il mondo. Sai, non sono un tipo da discorsi, quindi ti lascio da solo con questo. Buona fortuna. Ahem. Parla Susan Capelli. Questo è un messaggio per mio marito, Joe. Spero non sia troppo tardi. Mi dispiace di averti detto di andare. Credevo che ci fosse una speranza. O forse volevo soltanto sperare che ci fosse. Ma dopo averti sentito alla radio... Non volevo che tu partissi. È stato un errore. Mi dispiace. Jack sta bene. C'è qui un medico. Gli ha dato delle medicine. Ci sono anche altri bambini con cui può giocare. Gli manchi. Gli ho detto che tornerai. Perché tu tornerai, vero? Joe, per favore. Torna a casa. Torna a casa. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Secondo la mappa, il nucleo è protetto da uno scudo bello grosso. Cerca delle barre energetiche nei baraggi. Distruggile e dovresti toglierlo di mezzo. Sta funzionando, continua. Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. 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 a tutti.